il sistema museale dell'arcipelago toscano smart vince il bando promosso dalla regione toscana riuscendo ad ottenere un contributo di 25.376,61 euro un importante riconoscimento istituzionale per il neonato sistema che sta muovendo i suoi primi passi verso una progettazione strategica ed innovativa incentrata sulla valorizzazione e sulla comunicazione del patrimonio culturale dell'arcipelago il finanziamento ottenuto dalla regione toscana si va ad aggiungere ad un altro importante risultato ottenuto nel corso delle scorse settimane quello di tenere aperti i musei presenti sul territorio il bano durante il periodo delle festività natalizie promuovendo attività laboratori visite guidate ed escursioni su tutta l'isola d'elba un progetto condiviso da tutte le amministrazioni comunali rivolto alla comunità locale per promuovere la partecipazione e la conoscenza dei siti museali dell'arcipelago le prossime attività che saranno realizzate a breve grazie al contributo della regione toscana prevedono invece smart in lis un progetto finalizzata all'inclusione sociale che consisterà nella realizzazione di 15 video inclusivi uno per ogni museo e area archeologica del sistema i video consisteranno in delle vere e proprie guide multimediali dei luoghi di interesse culturale della rete e saranno realizzati utilizzando la lingua dei segni italiana immagini animazioni sottotitoli e audio sarà inoltre realizzato un sistema di prenotazione con acquisto dei biglietti online per tutti i musei afferenti al sistema museale